La sanità pubblica, ospedale unico provinciale, come e quando, clinica privata a Chiaruccia, Santa Croce depotenziato a favore della clinica, variante sì, variante no, pubblico e privati in contrapposizione. Sarà questo il tormentone politico che ci ritroveremo per le prossime elezioni amministrative. Primo genitura della battaglia, temi e accordi sotto banco, tanta la carne a fuoco su questo tema, rivalse e difese a spada tratta delle scelte accuse e controsmentite. Assisteremo a tanti di questi balletti nei quali poi alla fine il cittadino non riuscirà più a distinguere chi come e cosa e quanto è stato fatto e promesso. Domani torna in Consiglio Comunale per la quarta volta la delibera di variazione di destinazione d'uso dei 4 ettari di terreno a Chiaruccia sulla quale dovrebbe, il condizionale è d'obbligo, nascere la prima struttura privata convenzionata in provincia. Visto il fuoco amico che ha colpito la maggioranza dopo l'annunciato voto contrario di Severi e Serra, sempre che non ci siano assenze per ragioni sanitarie, il tutto si dovrebbe risolvere sul filo di lana, pallottoliere alla mano, con un solo voto di scarto a favore della delibera. Ma si sa, il proverbio recita mai di regatto prima di averlo nel sacco. Staremo a vedere. Di certo è che i due tiratori franchi hanno dimostrato che per Seri quella della clinica privata ha rischiato di essere un boomerang che gli ritorna in faccia se non lo prendi per il verso giusto. Ma in tutto questo bailame una posizione certa tale e rimane. Quella del centrodestra, che assieme ai 5 stelle, hanno sempre osteggiato questa scelta e alla soglia del quarto tentativo ribadiscono il concetto di un disegno ben preciso alla base di questo patto d'acciaio Seri Ceriscioli, ovvero depotenziare l'ortopedia pubblica per favorirne quella privata. Siamo contrari ad una sanità privata che intende sostituirsi alla sanità pubblica. I nostri specialisti sono assolutamente in grado e in gamba e riescono perfettamente a superire a qualunque esigenza. Vanno soltanto messi nelle condizioni di poterlo fare. Ma se fosse necessario aggiungere da parte dell'opposizione un altro elemento per far fare a Seri la parte del suddito di Ceriscioli, ci si mette anche la mancata realizzazione della viabilità alternativa. A partire già dal protocollo d'intesa che rappresenta a tutti gli effetti un atto giuridico importante, quindi un contratto, laddove uno dei due contraenti, in questo momento la Regione Marche, viene a mancare, a disattendere uno dei punti che nello specifico caso sono i famosi 20 milioni che dovevano servire a costruire parte della strada verso Muraglia. Ecco, la Regione si permette comunque in ogni caso di poter essere inadempiente su uno di questi punti, invece l'altro contraente che siamo noi, che è il Comune di Fano, continua a soddisfare tutti i bisogni famelici della Regione.